Moduli tridimensionali di acciaio lucido compongono l'installazione Water Bones di Loris Cecchini nello spazio di Edicola Notte, la galleria romana in vicolo del 5 a Trastevere gestita dall'artista sinomalese H. Calini. Il singolo elemento, incastrandosi negli altri, fa crescere la scultura adattandosi all'architettura della piccola galleria come una pianta rampicante. Il fatto che questo lavoro si sviluppa un po' come un diagramma aperto, una pianta rampicante o un rizoma in evoluzione, si sente molto bene all'interno di questo diaframma di Edicola Notte, proprio per questa misura e questa costrizione architettonica in realtà concentra qualcosa. In questo caso l'installazione ugualmente si sviluppa un po' come fosse un tessuto spugnoso in mezzo a un diaframma di un'architettura, diciamo questo corridoio di 5 metri, altro non è che la separazione tra un ambiente e un altro. In questo modo credo che il lavoro venga inscatolato, incorniciato e subisca una sorta di concentrazione. Numerose le mostre in istituzioni italiane ed internazionali a cui ha preso parte Loris Cecchini, tra cui la Biennale di Taipei, di Valencia e di Shanghai. È stato ospitato con progetti personali al MoMA PS1 di New York, al Palà de Tokyo a Parigi, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato e alla Fondazione Arnaldo Pomodoro. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.